Il reddito di cittadinanza è stata ed è una risposta concreta a chi ha bisogno di avere un reddito perché non ha lavoro. Attraverso i PUC noi diamo dignità a queste persone, inserendole in attività sociali di pubblica utilità, migliorando la qualità della nostra città e i servizi ai nostri cittadini. Il Comune di Napoli dà avvio ai progetti di utilità collettiva per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Si parte con 350 persone che dopo una prima fase di formazione affiancheranno il personale comunale nella manutenzione del verde pubblico. Sono due i progetti. Il primo prevede 50 unità a supporto dei giardinieri del Lab di Soccavo per la manutenzione di aiuole, fonti arbore e aree attrezzate e piccoli parchi. Il secondo coinvolge 300 percettori di reddito nella cura delle aree verdi delle 10 municipalità cittadine. Devo utilizzare i 350 percettori di reddito nella gestione del verde della città di Napoli. Di questi 350, 50 affiancheranno i giardinieri previ a formazione, quindi saranno responsabili della gestione del verde orizzontale nell'intera città di Napoli. Invece gli altri 300 saranno distribuiti in modo ponderale a quella che è la percentuale del verde nelle 10 municipalità e la loro funzione e il loro ruolo sarà quello di collaborare a ripulire i parchi dai rifiuti. Si parte dal verde dunque, ma l'amministrazione comunale è già al lavoro per presentare progetti simili anche in altri ambiti. La legge di stabilità per l'anno 2022 impone ai comuni di dare occupazione ad almeno un terzo dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Saranno circa 36.000 quindi le persone con possibilità di svolgere lavori di utilità pubblica e maturare competenze da spendere sul mercato del lavoro. Oggi presentiamo una manifestazione di interesse che permetterà a enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, ma anche agli enti pubblici che hanno sede nel comune di Napoli di poter ospitare percettori. Con uno scopo però in realtà più importante che è quello formativo. Vorremmo che questi progetti avessero anche una certificazione di quelle che sono le competenze apprese durante il loro percorso, in modo tale da rendere loro più semplice un ingresso nel mondo del lavoro alla fine appunto di queste attività. È un'iniziativa molto importante che poi deriva ovviamente dalle disposizioni di legge che sono state anche introdotte all'ultima finanziaria. Il utilizzare i percettori di reddito è una cosa importante per i percettori perché significa dare dignità alla loro azione e valorizzare questo strumento che è uno strumento molto importante di sostegno sociale ma anche di avvio al mondo del lavoro e consentire poi di avere una ricaduta sociale. Personalmente vedrò impegnato tantissime persone nel mondo del sociale per esempio all'accompagnamento con le persone disabili, il trasporto degli ammalati, gli anziani, i bambini sono tante le persone che vogliono lavorare, che ci cercano e che vogliono essere impegnati nonostante il reddito di cittadinanza. EPUC sono una risposta concreta che noi stiamo mettendo in pratica oggi è la prima, ce ne saranno tante altre.